Museo del Tabacco, presentazione di 100 impianti in 100 comuni d'Italia, parliamo di fotovoltaico. Sindaco, finalmente si parte. Sì, diciamo che rientra in un progetto più complessivo, che è ciò che ha l'amministrazione stracuore, quello di riuscire a intervenire attraverso l'innovazione, quindi le energie rinnovabili, a fornire ai nostri cittadini le possibilità diverse di poter consumare l'energia a costi minori e soprattutto consumare energia che non crea inquinamento, quindi da questo punto di vista oggi è una tappa assolutamente importante, si parla di fotovoltaico e c'è una grossa opportunità per quanto riguarda il risparmio energetico in questo versante. Andrea Vilzini ha coordinato il progetto per l'amministrazione comunale di San Giustino, è il primo progetto che parte in Val Cenerina. Che sappia io, sì, da 4-5 mesi a questa parte abbiamo visto l'opportunità di realizzare un progetto di questo genere che oggettivamente potrebbe portare notevoli vantaggi per le famiglie perché di fatto si riesce a ottenere l'energia elettrica gratis per tutto l'anno, quindi potrebbe essere una cosa interessante. Tutti i cittadini che hanno le condizioni fisiche proprio di installare questi impianti possono fare. Sindaco, per finire, ci sono dei progetti, dei contributi che il Comune potrebbe dare a chi sarà interessato a fare un impianto fotovoltaico a casa sua? Diciamo che assieme al proponente andremo ad attingere a quelle che sono le possibilità credo europee rispetto a dei bandi sulle energie alternative, quindi da questo punto di vista c'è tutta una legislazione che noi andiamo a ottemperare. E come diceva l'assessore è un passo oggi in un momento importante perché in un momento difficile, sappiamo tutte le iniziative che abbiamo preso anche a livello istituzionale di Vallata, in questo periodo poter alleviare quelle che sono le spese di consumo energetico sicuramente è una forza veramente importante in questo momento. Tentiamo queste strade per avere uno sfruttamento comunque sostenibile del territorio ma dare anche una grossa possibilità a una ripartenza da un punto di vista dello sviluppo economico.